Dove vai, Celestino? Fiore dei quartieri alti, con quelle virate da fuori serie. Ah, virecchino! Ecco, dove vai? Su, coraggio, cocco di mamma! Don Giovanni, te ne vai? Eh, ti conosco, lei tenterà di resisterti, ma poi ecco, il tuo profumo l'ha già turbata, è tua! Che fai, Celestino? Sei giù di carrozzeria? Affari! Oh, affari, affari seri allora, eh! SDM, spremute di marmo, c'è lì, buttati, qui c'è l'oro! No, signori, i suoi prodotti non ci interessano e frattanto ben distintamente la salutiamo! Si accomodi, signore, prego, prego! Ancora qui? Contrattido, vedi? Tre miliardi di affari! Ma, questione di bella presenza! Mon amine, la barba, quella barbacciona lunga e il vestito pieno di padelle come una cucina! Da retta a me, prova questo! E per la giacca, prova quest'altro! Dammi la giaccona! Ecco, vedi, vedi, vedi! La mia fortuna la devo ai prodotti Brenna! Crema di sapone per barba che lascia la pelle morbida con un piacevole senso di freschezza! Brenna! Talco finissimo nei profumi vecchia magia, fiorita di primavera, finezza d'autunno! Brenna! Smacchiatore tridistillato, sempre prodotti Brenna, Sarzana, prodotti Brenna, Brenna!